Aldo, eroe del diritto bancario, Giorgia, paladina del bilancio, Dario, cavaliere della certificazione energetica. Vuoi mettere in mostra le tue conoscenze e diventare un super professionista al servizio della comunità? Adesso puoi! Scarica KnowHow, l'app che dà visibilità alle tue competenze e trasforma i dubbi in soluzioni. Crea il tuo profilo, intercetta la domanda giusta, agganciala e conquista il tuo prossimo cliente con una risposta rapida e professionale. KnowHow, più valore al tuo sapere. KnowHow.it Grazie a tutti.